Desidero ringraziare prima di tutto gli insegnanti che hanno deciso di iscriversi ugualmente a questo corso nonostante fosse chiaro che si sarebbe svolto a distanza e questo naturalmente ne rende più faticosa la fruizione e quindi tanto più ammerevoli le persone che hanno deciso comunque di cimentarsi con un nuovo impegno al video. Sono impegni che in questo periodo ci occupano tutti troppo e desidero ringraziare Gianluigi Beccaria che sapendo le condizioni in cui il corso si sarebbe svolto ha voluto lo stesso organizzarlo con la sua caparbia gentilezza. E infine ringrazio l'Accademia perché di nuovo nonostante la particolarità dei modi in cui il corso si svolgeva non solo lo ospita ma offre un supporto tecnico perché queste registrazioni siano meno artigianali di altre. Dunque l'argomento che volevo affrontare è quello degli antichi commenti alla commedia dei quali è in corso un'edizione nazionale che ha lavorato assiduamente negli ultimi vent'anni producendo molte edizioni affidabili di commenti non solo trecenteschi. Di quelli composti nel secolo in cui morì Dante, cioè nel Trecento appunto la pubblicazione di cui centenario ora festeggiamo, la pubblicazione di questi commenti trecenteschi è stata all'interno dell'edizione nazionale cospicua e oltre a pubblicare testi finora poco noti ha comportato la riedizione nettamente migliorativa di commenti famosi ma altrimenti leggibili in edizioni ottocentesche poco affidabili e ancor prima poco chiare per l'approssimazione con cui il testo era stato trascritto dai codici prescelti spesso prediligendo nettamente un solo testimone. Ora invece riusciamo a leggere, a tacere d'altri, il primo commento in assoluto all'intero poema, cioè quello di Jacomo della Lana della seconda metà degli anni venti del Trecento che ci si presenta nella moderna edizione nella veste emiliana, probabilmente originaria, affiancata nella pagina a fronte dalla veste toscana e questo è il lavoro in quattro corposi volumi realizzato nel 2009 da Mirko Volpi con la collaborazione di Arianna Terzi per l'edizione nazionale. In una veste e nel contenuto affidabili è oggi leggibile anche il commento noto come ottimo che è il primo all'intero poema non in assoluto ma allestito a Firenze a metà degli anni trenta del Trecento. Nell'edizione nazionale quest'opera ha guadagnato una veste che l'ha resa leggibile sostituendo definitivamente l'edizione allestita con passione ma molti errori da Alessandro Torri a Pisa tra il 1827 e il 1829, ci è voluto quindi molto perché questa edizione di fatto piena di difetti fosse sostituita e questo perché? Perché il commento dell'ottimo è corposo. I nuovi curatori Giovanni Battista Boccardo, Massimiliano Corrado e Vittorio Celotto si sono occupati ognuno di una cantica perché la tradizione manoscritta dell'ottimo che ammonta comunque una quarantina di codici è in parte diversa per ogni cantica e hanno quindi stampato il commento in quattro volumi nel 2018. Le attuali edizioni, oltre a fornire un testo interpretato tramite la moderna punteggiatura scandito dalla numerazione di riferimento al poema, offrono anche un selettivo apparato critico e un'annotazione riferita alle fonti usate, in particolare al rapporto con commenti precedenti e successivi. Si riesce così a seguire in modo più chiaro del passato il maturare dell'interpretazione del poema nei decenni successivi alla morte di Dante. Nell'Inferno l'incontro con Gerione si svolge tra la fine del canto sedicesimo e quella del successivo. Vigilio chiama il mostro con una corda che Dante porta con sé e che il poeta latino a Inferno sedicesimo 114 gittò giuso in quell'alto burrato, cioè nello strapiombo che divide il girone dei violenti dalle malebolge. Burrato da una radice borro o burra ricostruita che lo collega a burrone, di gran lunga meno comune quest'ultima parola in italiano antico, viene parafrasato in modo generico da Benvenuto da Imola, il commentatore degli anni Ottanta del Trecento, quindi uno degli ultimi, che spicca per personalità. E' edito da Giacomo Filippo Lacaeta nel 1887 in un'edizione in cinque volumi che ancora fa testo di nuovo a causa della corposità dell'opera. Dice Benvenuto Id est in allium fossum obscurum ed burum, cioè in un altro fosso, ato, scuro e buio. Se tuttavia, al di là della singola glossa, che è corretta, cioè il burrato è un fosso, si legge l'intera pagina di Benvenuto, ci si rende conto velocemente che il commentatore ritiene Gerione muoversi non già a volo nello spazio aereo che divide i due gironi, ma a nuoto nell'acqua. Virgilio ha gettato la corda, dice Dante al verso 113, alquanto di lunge dalla sponda e cioè, spiega benvenuto, ubi erat plus de acqua in quale tebat falsa bestia quam capere volebat e traere at ripam, cioè dove c'era più acqua nella quale stava nascosta la bestia fraudolenta che voleva catturare e tirare a riva. Nell'introdurre il mezzo particolarmente inconsueto che gli consentirà di passare dal settimo girone al successivo, cioè il passaggio avverrà a volo, come sappiamo, Dante richiama l'attenzione del lettore con uno dei suoi appelli più scanditi e scrive a Inferno XVI 124-136 sempre a quel vera faccia di menzogna Dei luom chiuder le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacerno il posso e per le note di questa comedia, lettor, ti giuro, selle non sien di lunga grazia vote, chi vidi per quell'aere grosso e scuro venire notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro, siccome torna colui che va giuso talora a solver l'ancora, che aggrappa o scoglio o altro che nel mare è chiuso, che in su si stende e da pie si rattrappa. Il canto si chiude dunque con una descrizione di efficace realismo di un uomo che nuota. Dello straordinario paragone con il palombaro, certo capace di suggestionare in direzione delle esegesi che ritiene il movimento di Gerione non altro che quello di un corpo natante, viene interpretato anche allegoricamente. Il paragone del palombaro viene dato di questo paragone anche un'interpretazione allegorica. Ad esempio Cristoforo Landino, l'umanista che nella seconda metà del Quattrocento legge Dante dalla Cattedra Fiorentina, nel suo commento, che è stato il primo a comparire nella nuova edizione nazionale a cura di Paolo Procaccioli nel 2001, il Landino dunque legge il verso finale di Inferno XVI, che in su si stende e da pie si rattrappa, come allegoria delle mosse dell'uomo ingannatore che esprime apertamente benevolenza nella parte davanti e prepara un meschino inganno dietro le quinte. Forse tuttavia, un'annotazione che rivela consapevolezza della gratuità e quindi della letterarietà del paragone è quella dell'ottimo, che dice esemplificalo agli marinari, lo paragona ai marinai, che si gittano a nuoto in mare e vanno sotto a trarre l'ancora sopra la quale si mantenea la nave e dice che non è sempre bisogno, non è sempre necessario a questo tuffo. Dante infatti precisa talora assolver l'ancora a Inferno XVI 134 e l'ottimo specifica che la necessità sussiste solo quando con tale ancora ha preso scoglio o simile cosa, però che quando ha presa pur l'arena la nave si tira infino al diritto dell'ancora e tira lassù lievemente. Quindi una lettura attenta a tutti i dettagli è capace anche di funzionalizzarli se non all'interpretazione allegorica alla descrizione del mondo. Il paragone con entità ed animali acquatici come il notatore continua anche nel canto successivo a partire dai versi che parlano di burchi il 19-20 del XVII cioè delle barche a fondo piatto diffusi soprattutto in ambito lacustre, lagunare e quindi in Italia settentrionale il cui nome è di nuovo un corradicale di burrato. Che si tratti di imbarcazione diffusa nel nord Italia è precisato da un altro commentatore trecentesco una voce che arriva dalla Toscana occidentale quella di Guido da Pisa. All'interno dell'edizione nazionale la sua opera è stata riedita nel 2013 e in realtà è costituita da un complesso di scritti esegetici dedicate alla commedia ed è curata da Michele Rinaldi e Paola Locatin. Guido afferma che il paragone dantesco si riferisce a assicut in partibus Lombardiae naves quasi ipsi vocant burcos stant aliquando medie in ripis ed medie in aquis. C'è così come dalle parti della Lombardia quelle nave che loro chiamano burcos burchi stanno a volte mezza sulla riva e mezza nell'acqua. I curatori segnalano peraltro che qui in quest'ultima formula il dotto frate carmelitano Guido da Pisa rielabora un verso di Lucano Farsaglia nono 337 pars sedet unaratis pars altera pendet inundis per una parte sta stabilmente sulla terra la nave per l'altra parte è ancora sospesa nelle onde. I burchi in effetti al verso 20 dice Dante parte sono in acqua e parte in terra così come al verso 22 l'obivero s'assetta far sua guerra anch'esso stando parte in acqua e parte in terra. Si tratta in questo secondo paragone di un essere animato non più di un oggetto e cioè del castoro. Infine quando i due poeti spiccano effettivamente il volo appoggiati alla groppa di Gerione nonostante il richiamo al precedente dei voli di Fettonte ed Icaro che vengono appunto richiamati in quanto descrittivi della tremenda paura che Dante prova in questo percorso sospeso nell'aria quindi nonostante appunto questi paragoni che non possono che far pensare al volo è anche vero che Dante costella anche quest'ultima parte dell'episodio e quindi del canto diciassettesimo di paragoni con la navigazione acquatica per esempio nei versi cento cento uno come la navicella esce di loco indietro indietro quando lascia la riva si indietreggia oppure i versi cento tre cento quattro la coda rivolse e quella tesa come anguilla mosse o il verso cento quindici ella se va notando lenta lenta di nuovo notando tutti questi paragoni sono interpretati correttamente da Landino che chiarisce come anche qui anche in questa scelta metaforica Dante si rifaccia a Virgilio il quale più volte usa immagini del volo per descrivere la navigazione nel mare Dante fa qui l'inverso cioè usa immagini della navigazione nel mare per descrivere il volo il che ha comportato avverte Landino glossando i versi finali dell'inferno sedicesimo 130-131 cioè i versi che recitano io vidi per quell'aere grosso e scuro venire notando una figura in suso Landino glossa informando che molti sono rimasti ingannati credendo perché lui dice venire notando quel luogo essere ripieno d'acqua e non si accorgono che lui Dante imita Virgilio e il quale fa reciproca traslazione dal mare all'area Landino disconosceva con queste parole un'interpretazione ricorrente nei commenti fiorentini opere che cominciano ad essere prodotte almeno dai primi anni 30 del 300 e attestano insieme ad alcune prestigiose copie manoscritte del poema la fortuna che presso certi ambienti della città ebbe l'esule Dante già a un decennio dalla morte la prima traccia del fraintendimento relativo al movimento di Gerione sia forse nelle chiosi palatine un corpo di glosse riunite nei margini di un manoscritto un manoscritto della nazionale centrale di Firenze il palatino 313 che è della prima metà del secolo 14 e anzi secondo le glosse in esso contenuto secondo il loro editore per l'edizione nazionale che si chiama Rudy Avardo sarebbero addirittura anteriori al 1333 se non al 1328 cioè all'anno di pubblicazione dell'ANA che non viene mai usato nelle glosse palatine il codice è famoso anche perché contiene un corpus di miniature tra queste quella relativa all'inizio di inferno al diciassettesimo rappresenta con parole dell'edizione nazionale che le riproduce riproduce l'insieme di queste glosse di queste miniature e questa del diciassettesimo rappresenta Dante accostato a Virgilio che gli tiene la mano rassicurandolo mentre parla con Gerione raffigurato come una sirena classica con corpo umano e coda di pesce il corpo del mostro pare galleggiare nell'acqua limacciosa di una palude e questo è corroborato dal fatto che una delle chiose palatine recita demonio Gerione sopra il quale passaro il fiume questa glossa ricompare nel commento al poema di Andrea Lancia che è stato edito nell'edizione nazionale nel 2012 e che costituisce diciamo la tappa attraversata negli anni 40 del 300 da questo corpus di glosse fiorentine costituitesi inizialmente nelle palatine e ampiamente usate anche dall'ottimo si tratta di chiose spesso ripetute alla lettera in questi tre episodi ma non solo che quindi ripetute letteralmente dagli autori che vi ricorrono che sono caratterizzate da una particolare attenzione alle vicende storiche cui allude il poema nonché una grande attenzione alla biografia di Dante e alla sua produzione minore il rappresentante più famoso di questo filone è proprio l'ottimo ma la fortuna dei contenuti continua fino alla fine del secolo in città se ne stacca Boccaccio che diede pubblica lettura dei primi 16 canti del poema per incarico del comune di Firenze all'inizio degli anni 70 cioè poco prima di morire e la cui forte personalità lo distingue dal resto degli esegeti toscani e fiorentini in specie non tanto per differenza di contenuti ma per una speciale capacità di riconoscere e rivendicare il valore letterario della commedia al di là degli argomenti in essa toccati l'equivoco per cui Gerione è ritenuto muoversi a nuoto può essere prima di tutto suggestionato dal lungo paragone che descrive la cascata di Fleggetonte da uno all'altro girone nei versi 94-105 del sedicesimo la descrive mettendola a confronto con un fiume appenninico anche Burrato ha dato luogo ad equivoci e soprattutto l'incredibile quel verca faccia di menzogna volo che Dante si attribuisce e che descrive appunto con le realistiche metafore abbiamo visto del movimento umano in un elemento sì diverso dalla terra ma scelto nell'acqua che Burrato potesse essere inteso come riferito ad un corso d'acqua è equivoco presente ancora in Landino che parafrasa fossato giustamente ma aggiunge Burrato diciamo quel fiumicello al quale per essere in un vallone profondo e stretto il quale per essere in un vallone profondo e stretto ha le ripe alte da ogni banda quindi un fiume profondo in Landino si tratta come abbiamo visto di non più che un lascito di un'interpretazione che ancora troneggiava un secolo prima è in benvenuto e la cui fortuna non può non essere dovuta al fatto che essere stata sposata proprio da Boccaccio il quale spiega qui a questa occorrenza di Burrato non è inferno dodicesimo dove la parola già compariva e dove Boccaccio la parafrasa semplicemente con burrone qui invece Boccaccio nel sedicesimo dice fiume il quale chiama Burrato per lo avviluppamento adesso forse con questo avviluppamento dobbiamo proprio intendere perché è compreso tra altre ripe così è inequivocabilmente la glossa di Boccaccio nell'opera sua intitolata L'esposizione ed è pubblicata una delle prime che viene pubblicata modernamente al di fuori dell'edizione nazionale da Giorgio Padoan nel 65 all'interno invece della serie complessiva delle opere di Boccaccio pubblicata da Mondadori per cura di Vittore Branca l'equivoco in Boccaccio è esteso all'intero episodio come abbiamo visto venire in benvenuto il prestigioso esegete intende per esempio il verso cento e tentatè venire notando per quel fiume nel quale Virgilio aveva gittata la corda insiste poi sul palagone del Palombaro che chiude il canto sedicesimo e nelle poche righe dedicate a inferno diciassettesimo poche perché appunto poi la lettura si interruppe Boccaccio non poter più proseguire per ragioni di salute in queste poche righe che pure ha scritto precisa che Dante nella fine del precedente canto ha dimostrato come vedesse sotto l'acqua una figura la qual notando veniva in su cioè verso la sommità del fiume e nel principio di questo canto dimostra questa figura essere pervenuta a ripa e ancora al verso 9 del diciassettesimo quello che dice man sulla riva non trasse la coda Boccaccio spiega cioè mostra che quella la coda si rimanesse coperta nell'acqua l'interpretazione facilmente suggestionata dal testo dantesco abbiamo visto ha però una tale autorevolezza che nell'apparato iconografico della commedia sono molte le raffigurazioni di Gerione che naviga su un fiume con i due poeti in groppa lo si può constatare ad esempio nell'enciclopedia dantesca nella tavola inserita nel volume terzo tra le pagine 144 e 145 dove è riprodotto una xilografia di fine 400 che appunto rappresenta Gerione a nuoto su un fiume con i due poeti in groppa oppure si può consultare con grande piacere ancora il repertorio della divina commedia nella figurazione artistica e nel secolare commento a cura di Guido Biagi e di altri che uscì a Torino per la Ute tra il 1924 e il 1939 in tre volumi e offre molte miniature significative in questo senso a questa interpretazione Saline ha ben detto benvenuto in quanto fedele allievo di Boccaccio l'esegeta emiliano infatti omaggia Apertis Verbis il predecessore toscano in apertura del suo commento nella lettura che Benvenuto dà dell'episodio di Gerione se l'interpretazione generale è passiva nei confronti delle esposizioni di Boccaccio il realismo rappresentativo e la forte personalità del tardo esegeta trecentesco riescono lo stesso a manifestarsi ad esempio Gerione risponde al richiamo della corda lanciata da Virgilio affiorando dall'acqua un po' come noi siamo abituati a pensare faccia il mostro di Loch Ness l'acqua cominciava un pochino a muoversi dopo che vi era stata gettata la corda un parallelo che è venuto giudica comparazione domestica un paragone familiare quindi Gerione così Gerione come il palombaro torna su così Gerione che prima stava nascosto sotto l'acqua adesso cominciava ad uscirne addirittura all'inizio dell'inferno diciassettesimo benvenuto afferma che a inferno sedicesimo cioè sulla fine del canto precedente il nostro autore ha mostrato come Gerione è stato pescato con la corda un dettaglio poteva peraltro chiarire ai commentatori la natura del movimento di Gerione quando cala nell'ottavo girone seguendo le prescrizioni di Virgilio Virgilio ha detto al verso 98 del canto diciassettesimo le rote larghe e lo scendersi a poco cioè procedi lentamente tenendo conto che hai su di te un vivo adeguandosi a questa raccomandazione ai versi 115 e 117 la fiera se va notando lenta lenta rota e discende ma non me ne accorgo precisa Dante se non che al viso e di sotto mi venta cioè il vento mi colpisce da sotto sul viso bene interpretano Francesco Dabuti e sulla sua scorta il landino il Buti che è un commentatore che nei primi anni del secolo quindicesimo compone a Pisa un voluminoso commento al poema che oggi ancora si legge nell'edizione allestita da Crescentino Crescentino Giannini nel 1858 e ristampata nastaticamente nel 1989 il Buti dunque precisa che Dante pone qui una cagione per la quale si puote l'uomo a vedere del discendere quando sentisse ventarsi al volto come avverrebbe a chi si calasse giù per una fune e il paragone con la fune introdotto appunto da buti è ripetuto quasi letteralmente da Randino sentiva il vento come sentirebbe uno che scendessi per fune interpretazione tuttavia che possiamo chiamare fiorentina riesce a regolarizzare anche questo dettaglio come spiega l'ottimo questo vento si generava dall'acqua che cade nell'ottavo circolo cioè era una specie di vapore acque non sono solo le numerose metafone nautiche ad aver suggestionato gli antichi interpreti della commedia nella direzione di un gerione che si appoggia alla riva del settimo girone mantenendo parte del suo corpo nell'acqua ad un abbondante precipitoso flegetonte già Jacopo figlio di Dante considerato tradizionalmente il primo interprete della cantica che apre il poema e le sue chiose si limitano infatti all'inferno dà notevole rilievo nel commentario inferno diciassettesimo al paragone del bivero di cui nella sua prosa un po' contorno solitamente contorta racconta che nelle lagune della magna cito dall'edizione di Jacopo allestita per cura di Saverio Bellomo e uscita di nuovo prima che partisse il progetto dell'edizione nazionale e quindi pubblicata a Padova da Antenore nel 90 dice dunque Jacopo nelle lagune della magna naturalmente stando e vivendo di pesci alcuna stagione dell'anno così a sua pastura s'acconcia essendo di grandezza e di forma come faina e avendo la coda formata di pesce la quale con tanta grassezza permane che stando alla riva e percotendola nell'acque scandelle come d'olio per l'acque rimangono alle quali i pesci traendo da lui finalmente sono presi la descrizione è talmente efficace che sarà eccheggiata dalla maggior parte dei commentatori successivi che quindi si soffermano a lungo su questo peraltro invece brevissimo paragone nel testo dantesco e ancora se ne ritrovano dettagli nella relativa glossa dell'Andino quindi a due secoli di distanza e anzi più di due secoli due secoli e mezzo già Jacopo della Lana in queste terzine riprendendo per l'appunto la descrizione di Jacopo Alighieri sottolinea che la posizione anfibia di Geltrione è analoga appunto a quella dei burchi e citando da Lana che sappiamo è in una veste emiliana che era la sua lingua originaria burchi che è un unaviglio che molte fiate stanno mezzi sulla spiazza e mezzi stanno in acqua così questa fiera mezza stava sulla riva del settimo girone e mezza in l'acqua vacillava ho un po' insistito su forse qualche sfumatura veneziana perché dove veramente il commento dell'Ana sia stato composto resta incerto ed è probabile che l'Ana non fosse a Bologna ma forse appunto in Veneto se non addirittura a Venezia dunque dice appunto Gerione stava mezzo sulla riva e mezzo nell'acqua quindi tenete conto che l'interpretazione che abbiamo visto svolgersi e radicarsi tra i commentatori toscani ha un antecedente in questo importantissimo commento al poeta se la posizione è mezza su terra mezza su acqua quella dei burchi la stessa è per il bivero e perché il bivero si mette in questa posizione appunto anfibia perché quando se vuol passer quando vuol mangiare si accota il costume che il vene ha la riva dell'acqua e mezzo sta in acqua e l'altro mezzo sta in terra agendo con la grassa coda per fare grassa l'acqua come polifossigità olio che è proprio il dettaglio delle scandelle di cui abbiamo sentito attraverso Jacopo Jacopo Alighieri a proposito del bivero benvenuto mostra di nuovamente la propria autonomia e la forza della sua personalità in una in una tradizione esegetica così come stiamo vedendo così invece inerziale così fatta per accumulo piuttosto che per modifica e benvenuto non sfugge a questa tendenza all'accumulo e tuttavia riesce pur lavorando ormai avendo alle spalle 60 anni di commento alla commedia riesce a mostrare la sua forte personalità anche laddove in qualche modo ripetitivo come sono gli altri e come la mostra qui nel caso del bivero perché si diffonde in una descrizione molto più precisa del rituale di caccia del quale darà anche un'interpretazione allegorica in termini di fraudolenza ogni dettaglio viene interpretato come simbolico di qualche atteggiamento del fraudolente è particolarmente prolungato in benvenuto il quadro delle costruzioni di cui il castoro o bivero è capace istud animal spia dell'interpretazione acquatica della condizione in cui si muove Gerione dato che siamo a distanza mi permetto di tradurre la lunga citazione quest'animale è molto forte furbo intelligente e dominante si riferisce a questo aggettivo a un dettaglio che ho tralasciato e cioè al fatto che Benvenuto dice che Gerione il castoro schiavizza altri castori più deboli facendosi aiutare nella costruzione della casa ha un morso molto acuto e può degli albi riesce a segare e far cadere alberi abbastanza grandi e i rami di questi alberi con i quali si fa un casa artificiale a più piani vicino alla riva dell'acqua e all'interno dell'acqua così che quando l'acqua sale lui sale ai piani superiori della casa e quando l'acqua scende lui scende una volta fatta la casa si colloca in essa e mette sempre la coda nell'acqua stando all'interno della struttura e agita la coda nell'acqua e quando alla quale coda i pesci corrono e lui stesso è così che lui velocemente può catturarli ora tornando alla lettera l'autore vuole dire che Gerione stava al momento sulla riva tenendo se stesso in parte nell'acqua e in parte fuori dall'acqua e in parte all'interno dell'acqua così come fanno le nave o il bivaro in questa stessa potremmo dire testarda direzione vanno altre due osservazioni di benvenuto che di nuovo ne mettono però in risalto il grande spirito d'osservazione pur male indirizzato questa volta dalla lettura del maestro Boccaccio mai giurare nei verba magistri a Inferno diciassettesimo centodue quando Dante dice e poi che al tutto si sentì a gioco Dante appunto descrive che una volta che Gerione si sente del tutto libero dalla riva e quindi libero di muoversi senza tema di scontrarsi di battere contro qualcosa Gerione è finora indietreggiato per allontanarsi dalla riva del settimo girone ma quando si sente a gioco fa una rapida inversione a U e benvenuto interpreta che tale manovra venga affrontata dalla bestia posquem sensi tse totum in aqua ubipotere ad natare ludere e guicciare ad modum piscis c'è proprio guicciare nel latino di benvenuto e quest'ultimo verbo guizzare come un pesce è uno dei non rari casi in cui il latino di benvenuto maschera appena dal punto di vista sintattico non meno che lessicale e volgare ancora ai versi 104-105 del canto diciassettesimo Dante descrive l'indirizzo preso nel volo da Gerione con un nuovo paragone che gioca al confine tra acqua e aria e quella cioè la coda tesa come anguilla mosse e con le branche l'aere a sé raccolse del dettaglio del dettaglio delle branche che raccolgono l'aria benvenuto precisa peroc notat actum natantis qui aiactat bracia superacquam e sic verberat aerem traduco come anche prima prima non mi ero dimenticata dopo che si realizzò di essere del tutto nell'acqua totalmente immerso nell'acqua e quindi che qui poteva nuotare giocare e guizzare come un pesce ecco invece riguardo le branche benvenuto dice con questa osservazione con questo dettaglio l'autore ci mostra ci descrive l'atto del nuotatore poiché getta le braccia sull'acqua e in questo modo colpisce l'aria cioè è come se benvenuto ci rappresentasse un gerione che nuota farfalla il nome bivero deriva da una forma del tardo latino biber della quale gli etimologi ma in realtà già prisciano che lo comprendeva nella componente germanica dell'essico latino hanno cercato l'origine o in una voce gallica che si potrebbe ricostruire da toponomi francesi che contengono una forma bebros oppure invece l'hanno ricondotto a una voce germanica la ricostruita voce bebrus qui si ricollegano il tedesco biber l'inglese biber di contro al corrispondente latino fiber in latino più antico feber alle spalle del latino del gallico del germanico ci starebbe secondo gli etimologi una forma sanscrita che non oso pronunciare cioè provo babru bruno che è derivata per raddoppiamento da appunto brun che significa per l'appunto bruno ed è quindi uno dei tanti con nomi di colore che sono effettivamente arrivati alle nostre moderne lingue romanze tramite le lingue germaniche cioè tramite le lingue germaniche con parole con termini che in realtà erano già entrati probabilmente in epoca tardo imperiale insieme ad altri nomi tutti i nomi di colore per esempio bianco e appunto bruno che voleva dire piuttosto splendente e che si riferivano secondo i linguisti o ai colori dei manti dei cavalli o alla lucentezza delle armi molti dei commentatori trecenteschi sembrano percepire le straneità della parola di Bivaro torniamo ora più modestamente al nostro termine dantesco e collocano il Bivaro infatti sulle rive del Danubio dando cioè seguito eco al suggerimento per cui Dante nel ventunesimo verso nel verso 21 del canto diciassettesimo situa per l'appunto il Bivaro la tra li tedeschi l'urchi Guido da Pisa ad esempio esplicita che si tratta di animal quadrupedum ipsi teutonici bivorum appellant un animale quadrupedum che proprio i tedeschi chiamano bivero e quindi fa di questo termine un forestierismo e poi prosegue con una glossa che ripete quella di Jacopo Alighieri non naturalmente che i commentatori semplicemente parafresino passivamente i versi del poema torniamo al nostro amato benvenuto il quale precisa che certo castores abundant in Alemania iucstaripas danubi e in realtà abbondano anche sul ponto come dicono di Oscori e de Virgilio lì c'è tonunoportet i reita longe qui è in venutur ic non longe a ferraria in territorio marchionum estensium cioè dice benvenuto i castori abbondano in Germania vicino alle rive del Danubio e anche vicino al ponto come dicono di Oscori e di Virgilio ma non è in realtà anche se non è necessario andare così lontani poiché si trovano qui non lontano da Ferrara nel territorio dei marchesi d'est lo stesso benvenuto affianca a Bivero le denominazioni classiche sì perché l'ho descritto finora come una personalità sanguigna è però anche un uomo estremamente colto e quindi dice che Grece in realtà sappiamo anche Latine dice Turfiber Latine è vero Castor in greco si chiama Fiber in latino Castor e benvenuto precisa ancora richiamandosi al trattato zoologico di Alberto Magno che il nome di Castoro non viene come afferma Isidoro di Siviglia qui sentite quindi la ricchezza della cultura medievale ma in realtà preumanistica dal fatto che il Castoro non deriva il suo nome dal fatto che il Castoro castri se stesso per sfuggire ai cacciatori che lo cercano per la preziosa sostanza medicinale il Castorio contenuta nel suo corpo e in specie nei testicoli i moderni etimologi in realtà non seguono tanto questa interpretazione ma appunto segnalando la presenza di Castoro sia in greco che in latino ipotizzano che si tratti di una voce mediterranea cioè se vogliamo prende europea non è questo il solo forestierismo mediato o meno dal latino tardo che i commentatori devono affrontare nei versi dedicati a Gerione basti tornare a lurchi detto dei tedeschi verso 21 del canto diciassettesimo che si riconduce al latino lurco lurconis mangione un deverbale da lurcari mangiare smodatamente una coppia che si può assimilare in qualche modo a spurcus aggettivo e spurcare non è mancato un moderno commentatore di Dante il Leonardo Olschi che commenta tra il 1918 e poi ripubblica il suo commento nel 1922 che ha suggerito di ricondurre al tedesco lurche cioè animale acquatico la parola dantesca ma in realtà non ha incontrato molto credito la voce è peraltro fraintesa anche in epoca più vicina a Dante ad esempio dal Buti che vi riconosce il nome di una popolazione analoga ma diversa dai tedeschi abitanti come questi nella Magna più comune però l'interpretazione corretta perché il termine pur non molto diffuso in testi scritti affiora tuttavia anche indipendentemente dalla commedia e dai suoi commentatori con il significato di crapulone o con le parole se vogliamo dell'ottimo divoratore non mondo e non netto un vero gallicismo cioè un francesismo d'epoca tardo medievale è il logoro che viene usato in uno dei paragoni finali del canto XVII quando appunto si descrive l'appoggiarsi di Gerione alla riva delle malevolge al livello delle malevolge e lì lasciare i due poeti facendo appunto calandosi lentamente come fa il falcone quando non attende il logoro il falcone appunto cala in mancanza di preda anche senza attendere il logoro questo avviene a Inferno XVII 128 gli etimologi riconducono logoro al francese antico Loire che ha una forma anche moderna Loire e segnalano che anche questa voce ha alle spalle una forma germanica il franco Lothr ricostruito Lothr esca come ben spiega il Buti si tratta di l'oggetto è un richiamo che è fatto di cuoio e di penne a modo di una ala con che il falconiere il suole richiamare il falcone girandolo girando il richiamo tuttavia di continuo e gridando il termine come rivela una parafrasi così circostanziata cioè così efficacemente descrittiva doveva essere ben noto e tale infatti risulta anche dalla splendida banca dati dell'italiano antico che è stata allestita ed è oggi consultabile in rete liberamente si chiama Tlio tesoro della lingua italiana delle origini è allestita da un'unità CNR un'unità del centro nazionale di ricerca che ha sede a Firenze presso la Crusca e in questa splendida banca dati dell'italiano antico che effettivamente si rivela che il termine logro è abbastanza diffuso ha usi addirittura metaforici in testi poetici e ha forme lessicalizzate polirematiche del tipo tornare al logro nel senso tornare indietro infatti non pochi commenti si limitano a parafrasarlo con la variante sincopata logro così ad esempio per il landino o con quella ancora più vicina alla base germanica lodro lodrum in benvenuto e questa forma è verosimilmente una derivazione diretta dalla forma franca che abbiamo citato prima cioè non c'è bisogno di passare dal gallo romanzo quindi è come se la parola fosse entrata due volte una volta in forma diretta dalle lingue germaniche e un'altra dando quindi questi due esiti una con conservazione della dentale l'altra invece con trasformazione di gallicismo a base germanica si tratta anche a proposito di un termine che compare nel verso conclusivo di un altro canto dell'inferno non meno famoso l'inferno tredicesimo qui un innominato suicida condannato all'interno di un cespuglio ha sentito dolorosamente i suoi rami spezzati dalla corsa infernale di dannati inseguiti da cagli nel declinare la propria identità il suicida confessa il verso 151 che è proprio l'ultimo del canto io fei gibbetto a me delle mie case il passo interessa in realtà i commentatori antichi soprattutto per l'allusione al frammento di statua di Marte disposto questo frammento sul ponte vecchio e che il frammento sempre starebbe a salvaguardia delle vicende belliche delle fortune in guerra del comune di Firenze e Dante si riferisce appunto a questa credenza nelle due terzine precedenti a quella al verso che abbiamo letto e qui Dante infatti che pure emette questa affermazione cioè questo credente la fa riferire dal dannato quindi in qualche modo potrebbe considerarsene dissociato rischia tuttavia l'accusa di eterodossia cioè pensare appunto che un dio pagano possa ancora tutelare le sorti di Firenze ed è quindi soprattutto da questa accusa possibile che i commentatori si preoccupano di salvaguardarlo ciò non toglie che il passo può risultare oscuro anche perché del condannato non si fa il nome oltre che per l'opaco termine gibetto quanto al primo problema quello dell'identità del dannato le soluzioni sono ben tre e secondo questa tendenza all'accumulo che abbiamo descritto si vanno gradualmente affiancando nei commenti trecenteschi iniziamo da Jacopo Alighieri che di Firenze doveva aver sentito parlare non sempre bene in famiglia il quale afferma che dei fiorentini è proprio vizio da piccare sei medesimi come degli aretini il gittarsi nei pozzi ed è per questo motivo che del dannato non si dà il nome in modo che dice ancora Jacopo ciascuno leggendo del suo parente si creda Graziola dei Bambaglioli che poco dopo Jacopo e cioè prima dell'ANA quindi appunto siamo proprio a metà degli anni venti del trecento commenta la sola prima cantica il solo inferno in latino ma le sue glosse circolano molto presto in Toscana in versione volgarizzata e sono state pubblicate da Luca Carlo Rossi nel 1998 quindi ancora al di fuori dell'edizione nazionale presso la scuola normale di Pisa Graziola dei Bambaglioli dunque propone invece un'identità più precisa e propone che si tratti del giudice lotto degli agli dopo aver emanato una sentenza falsa l'importante magistrato si sarebbe suicidato impiccandosi con una cintura argentata quest'ultimo dettaglio della cintura argentata resterà a caratterizzare l'alto livello sociale del giudice anche quando la sua pur breve biografia sarà stata romanzata ideando che egli fosse stato spinto ad emanare la sentenza falsa da bisogno di denaro il che appunto è un po' contraddittorio col possesso di un oggetto così bello ad esempio l'ottimo appunto racconta da questa interpretazione che il giudice fosse in ristrettezza economica e ciò nonostante sottolinea che il mezzo con cui si impicca è questa preziosa cintura le due ipotesi vengono esposte quindi la genericità della voluta anonimato del dannato o la sua identificazione con l'otto tutte e due le ipotesi vengono esposte fianco a fianco dall'ANA accennato brevemente all'otto Iacomo prosegue dicendo che la mancata identificazione si può altrimenti spiegare appunto con il fatto che il suicidio per impiccagione in casa propria è applicabile a molti e qui l'ANA ha l'occasione di esplicitare il fine didattico dell'opera dantesca e conclude infatti e perché gli esempi enoposti in la presente commedia ad intelligenza del studente quello esempio che gli è più notorio si è da torre a so che il possa più perfettamente prendere l'intenzione del poema per solida larghezza che il toglia cioè che lo studente prenda per esempio di qui che il preditto studente sai cioè gli permette nel sciandolo anonimo che appunto lo studente identifichi questo suicida con la persona nota lo studente per aver commesso questo peccato in modo diverso e con notevole sensibilità anche Boccaccio suggerisce che la discrezione di Dante sia voluta e dovuta in particolare al riguardo per i parenti del dannato del suicida visto che come appunto voleva la tradizione questa forma di autolesionismo sarebbe diffusa a Firenze quindi tacere il nome del singolo farebbe sì dice Boccaccio che ciascun possa apporlo a quel più gli piace di quei molti la tradizione esegetica toscana che già conosciamo avere una sua specificità e a cui a Boccaccio già sappiamo si allinea però solo in parte affianca la candidatura di Lotto degli Agli quella di Rocco Rucco nei commenti antichi dei Mozzi che viene menzionato ad esempio da Guido da Pisa poi da Lancia dall'Ottimo come dilapidatore di un ampio patrimonio finito per l'appunto suicida cioè quello che succede è in questo Rocco dei Mozzi i due peccati che sono puniti in questa parte del girone vengono di fatto incarnati da un'unica persona quanto al giubbetto si tratta effettivamente dell'adattamento del francese giubbet patibolo a sua volta dal franco gib gib ramo biforcuto il termine doveva fare difficoltà perché già Bambaglioli di solito non proclive a glosse lessicali precisa fei gibbetto qui a Locus in cui sospendo un tur homines in parte bus Francia evocato giubbet perché il luogo nel quale vengono impiccati gli uomini dalle parti di Francia si chiama giubbet che è un'equilibrata diagnosi di francesismo al di là della forma imprecisa in cui è riportato il termine originario in modo ancor più ineccepibile benvenuto dirà io fei gibbet a me delle mie case ed est ego suspendi me in domibus meis nam gibbet in lingua gallica idem est quod furca si ve locus subifur e suspendantur cioè io mi appesi nelle mie case mi impiccai nelle mie case infatti gibbetto in francese è lo stesso che forca o il luogo in cui vengono impiccati i ladri la stessa capacità di restare terra terra non si trova tuttavia nel resto dei commentatori trecenteschi pur provenendo dalla stessa Bologna di cui Bambaglioli era stato cancelliere Bambaglioli abbiamo visto identifica il francesismo e cui fa riferimento anche l'ampia cultura preumanistica di Benvenuto che appunto è di Imola già già il lana ingigantisce la notazione di molto e dice zubetto sia una casa in Parise addirittura un edificio è un nome proprio in la qual si fa la giustizia per pubblica signoria lì si taglia teste lì si impicca lì si procede contro le persone dei malfatturi per la rason pubblica nella tradizione esegetica toscana l'elaborazione della notizia legata al francesismo cioè il trasformarlo in un vero e proprio edificio in realtà non arriva al punto a cui la portata è lana la glossa infatti è ancora precisa nelle chiose palatine quelle che abbiamo visto essere il primo nucleo di questa tradizione fiorentina le chiose però hanno questo di originale che suppongono che l'uso del termine francese sia legato alla biografia del dannato dicono infatti usa qui Dante il parlare francesco però che costui e li suoi avevano usato quello paese cioè avevano frequentato la Francia e per l'acquisto di là divenuti uomini di niente alti e famosa compagnia Giubbetto è in francesco lo luogo nel quale si impiccano gli uomini e lombardo e tedesco informazioni queste ultime con le quali il commentatore segnala che il termine ormai di casa anche in Italia settentrionale è in Toscana quindi la famiglia dei mozzi si è arricchita in Francia ed è per questo che Dante usa Giubbetto secondo le chiose la precisione psicografica si mantiene nel lancia a metà degli anni 40 quest'ultimo dice che del suicida Dante scrive la sua morte alla Francesca Giubbetto in francesco sono le forche una decina d'anni prima invece l'ottimo elaborando probabilmente il suggerimento delle chiose palatine aveva immaginato non già che la famiglia dei mozzi avesse accumulato i suoi beni in Francia quanto che Rocco ve li avesse dilapidati a Parigi dove per avventura egli usò e consumò e delle sue facoltadi cioè dove forse per caso egli usò e consumò le sue ricchezze il luogo dove si appendono gli uomini si chiama Giubbetto la denuncia di francesismo peraltro è da riconoscere appunto qualora il commentatore come fa Boccaccio dica che così si chiama a Parigi quel luogo dove i dannati della giustizia sono impiccati cioè come vedete si è attenuato rispetto alla posizione dell'anno che parla proprio di una casa in Parise qui si parla in genere del luogo cioè anche appunto del patibolo e con Parigi va inteso un iponimo per la Francia per cui appunto simili notazioni che troviamo in Guido da Pisa nel Buti nel Landino la menzione cioè di Parigi va intesa in senso più generale la tendenza però a trasformare un singolo oggetto nel luogo dove questo oggetto è usato si riscontra anche relativamente ad un altro gallicismo che ha si riscontra nei commenti antichi anche relativamente ad un altro gallicismo che ha alle spalle un termine di nuovo germanico il bersaglio di cui parla Giovanni Evangelista nel ventiseesimo del Paradiso ai versi ventitré e ventiquattro di cerconvienti chi drizzò l'arco tuo a tal bersaglio cioè quando Giovanni quando l'Apostolo sta stringendo le maglie dell'interrogatorio sulla carità a cui ha sottoposto Dante gli etimologi rinviano all'antico francese Bersai a sua volta a deverbare di Berset tirare con l'arco da un franco Birson ricostruito andare a caccia che ha riscontro in forme anche tedesche e soprattutto nel latino medievale a Bergamo per esempio nel secolo tredicesimo con Bersagium a Udine nel 1363 con Bressaglius ad Balestrandum in italiano la famiglia si allarga l'adattamento Bersare colpire con l'arco del Berset francese cioè Berset francese diventa Bersare e anche a Imberciare prendere di mira dove qui Berset si è incrociato con Imbrociare che è a sua volta un gallicismo da Ambrose in tedesco esiste infine un Pierschen avvicinarsi di soppiatto quindi una famiglia di parole abbastanza ampia che così viene ricostruita dai lessici etimologici a partire da quelli di prima novecento fino al recentissimo lessico etimologico italiano il Lei che viene realizzato a Zarbrucken ma ormai anche con collaborazioni con molte università italiane e che pubblica anche una sezione di germanismi dove il nostro Bersaglio è trattato nel quinto fascicolo del primo volume alle colonne 833-846 tra i commentatori che con benvenuto parafrasano Bersaglio semplicemente e appropriatamente segno cioè obiettivo circola altresì una linea interpretativa che promuove invece Bersaglio Bersaglio con le parole dell'Ana a quello luogo dove si esercita qui che imparano a balestrare quindi l'Ana di nuovo propone promuove il singolo oggetto ad un intero luogo è una glossa infatti che difficilmente potrebbe riferirsi al solo obiettivo concreto materiale cui tirano le frecce gli apprendisti la linea esegetica fiorentina identifica in Bersaglio un forestierismo e lo riconduce giustamente e lo riconduce all'Italia settentrionale a cui ancora oggi gli etimologi a volte sospettano possano appartenere voci interpretate come gallicismi non è questo il caso cioè non è il caso di Bersaglio secondo Roberta Cella Roberta Cella dobbiamo una rassegna di gallicismi basata su risultati esaustivi di quella banca date dell'italiano antico di cui vi parlavo dove le attestazioni settentrionali di Bersaglio sono poche e tarde ma si ricordino le forme latine citate da dizionari etimologici quella forma bergamasca e quella forma udinese che pure sono effettivamente tarde cioè secoli tredicesimi e quattordicesimi com'è che sia l'ottimo forse instradato dall'ana ritiene Bersaglio nome viniziano luogo è dove si provano di saettare gli uomini a parere di Cella appunto l'ottimo in questo caso è molto suggestionato dall'ana e sarebbe una delle tante spie che l'ana appunto è un commento che è stato allestito in Veneto un'altra un'altra ipotesi si potrebbe fare su una base più strettamente fonetica cioè Dante usa per l'appunto una forma le lezioni che i manoscritti ci danno è una forma con z bersaglio ed effettivamente la z è una marca una frequente marca di settentrione età specie in corrispondenza di una s toscana ancora più incerto si mostra il buti che parafrasa in un modo vaghissimo argomentando così bersaglio cioè a tale mischia e battaglia che in te dà lo mondo e la carne l'arco fa dunque fatica a colpire diritto e tende a colpire storto cioè buti interpreta metaforicamente cioè che cosa chiederebbe Giovanni a Dante ha fatto sì che tu sia stato capace di vincere la battaglia mondana la battaglia dei vizi della carne e della mondanità in generale e quindi il tuo arco non ha tirato storto ma ha colpito dritto il bersaglio sistema meglio le cose il tardo landino spiegando che bersaglio è quel segno al quale i basestieri traggono che in greco si chiama scopon con un vezzo umanistico che chiama in causa la voce parallela tra le due la più esotica delle lingue classiche concludiamo con una forma invece diversa un probabile arabismo ancora una volta però mediato dalle lingue galloromanze in questa volta dal provenzale si tratta di caribo che viene usato a purgatorio 31esimo 132 per indicare la canzone a ballo che Dante vede e ascolta eseguita da tre donne che rappresentano le tre abitudini logali e li danzano di fronte sebbene con qualche perplessità dovuta alla trasformazione della consonante mediana R che diventa che verrebbe a cui corrisponde nella forma etimologica una sibilante il termine viene appunto ricondotto nei dizionari ad una forma araba casiba tipo di flauto adattato in provenzale nella forma garib da cui deriverebbe l'italiano caribo che indica appunto uno strumento musicale ma anche una canzone emotivo di danza roberta che abbiamo già chiamato in causa aggiunge che l'adattamento dell'iniziale nella sorda cioè caribo con la sorda rispetto alla forma provenzale garibo con la sonora suggerisce di nuovo che la voce si sia diffusa da prima in Italia settentrionale e poi da lì sia arrivata in Toscana dove si avrebbe avuto una specie di reazione ipercorretta alla tendenza padana a sonorizzare le occlusive e avrete notato che l'ipotesi del settentrionalismo avviene in un canto del paradiso in questo del purgatorio quindi non ci stupisce rispetto a un dante esule ma ricordatevi che anche i burchi erano una barca settentrionale quindi evitiamo una immediata biografizzazione di questi dati linguistici i commentatori in generale sorvolano sul termine per buona parte del Trecento il primo cioè ad occuparsene sembra proprio essere solo benvenuto che si cimenta e propone id est ad gratulazione met canzione angelica mipsarum vel ad cantum angelorum ita quod conformabant motum sum voci sue del voci angelorum sicud solent facere tripudiantes et cantantes simule cioè cosa dice cioè come ringraziando e come al ringraziamento alla canzone angelica di quelle o al canto degli angeli poiché conformavano cioè rendevano simile il loro moto alla loro alla voce degli angeli alla loro stessa voce o alla voce degli angeli come suogliano fare le persone che cantano e danzano allo stesso tempo di cosa si tratta si tratta in realtà di una parafrasi desumibile per intuito dal contesto dantesco Dante dice se dimostrando di più alto tribo negli atti l'altre tre si ferò avanti danzando al loro angelico caribo volgi Beatrice volgi gli occhi santi era la sua canzone e quindi danzano e cantano l'equilibrio tuttavia di benvenuto che appunto cerca sostanzialmente di parafrasare il contesto in questo caso non convince i successori già Butti tenta un'interpretazione etimologica di caribo riconoscendo una variante di garbo al loro angelico modo garibo dice Butti cioè una forma più vicina al provenzale e a dire garbo e garbo è lo modo quindi ballavano a modo angelico chiama cioè in causa con garbo un altro arabismo che risale probabilmente a calib forma dei pezzi di costruzione di una nave la proposta ha successo visto che alla mossa del predecessore Pisano si allinea a decenni di distanza proprio l'umanista landino garibo cioè all'orangelico modo garibo viene da garbo e garbo significa modo e forma non è una soluzione che abbia soddisfatto i lessici e i commenti a noi contemporanei ma le difficoltà che in parte ancora permangono nell'interpretare questa parola suggeriscono di guardare con benevolenza la gara in cui si ingaggiarono toscani e non toscani nell'interpretare il denso dettato dantesco una gara che abbiamo visto che si è cercato di mostrare in queste singole glosse lessicane ma che appariva chiarissima anche nelle glosse contenutiste nelle interpretazioni magari errate come quella di Gerione quindi commentatori che mostrano la fatica di interpretare un testo così complesso e così denso e nello stesso tempo ci costituiscono tutt'oggi non solo una documentazione linguistica di assoluto interesse come il caso per esempio dell'ANA ma anche del latino di benvenuto ma sono in realtà i primi portatori di quei contenuti e di quelle identificazioni di quelle proposte interpretative allegoriche o semplicemente strutturali nel riconoscere appunto l'organizzazione dei canti a cui ancora oggi in gran parte ci conformiamo nella lettura del poema e vi ringrazio per l'ascolto e vi ringrazio per l'ascolto e vi ringrazio